numero 5 è un olio che aiuta a prevenire e ridurre efficacemente le smagliature soprattutto durante la gravidanza aumenta significativamente l'elasticità della pelle e la sua formula è basata su ingredienti naturali al 100 per cento e dermatologicamente testata in questo modo puoi evitare qualsiasi allergia o irritazione mentre usi questo prodotto è composto da oli di origine naturale a base di jojoba mandorle e semi di girasole offre un rapido assorbimento nella pelle così come un piacevole profumo quindi può essere usata facilmente e non lascerà una sensazione appiccicosa sulla pelle inoltre la sua formula include la vitamina e non contiene paraffina conservanti o coloranti che possono irritare la pelle se ti interessa questo articolo trovi i link in descrizione numero 4 si tratta di una crema anti smagliature che ha un'efficacia clinicamente provata riducendo la formazione di smagliature fino all 89 per cento questa crema è indicata per la prevenzione delle smagliature durante la gravidanza negli adolescenti a causa della perdita di peso nel caso degli atleti la sua formula include la centella asiatica che ha un'azione rigenerante e riparatrice sulla pelle evitando così la comparsa delle smagliature agisce direttamente sulla pelle per aiutarla a resistere alle aggressioni biochimiche e allo stiramento fisico è adatto a tutti i tipi di pelle essendo una crema di alta qualità adatta anche per la pelle sensibile si raccomanda di applicarlo almeno due volte al giorno per ottenere sempre i migliori risultati in basso nella descrizione del video trovi il link del prodotto su amazon numero 3 questa è una crema di alta qualità che ha principi attivi con proprietà esfolianti riparatrici e rigeneranti per la pelle la sua formula include estratto di centella asiatica vitamina c silicio organico acido glicolico estratto di cipolla ed equiseto tutti questi ingredienti sono progettati per migliorare notevolmente la salute della pelle riattiva il funzionamento naturale della pelle aumentando la sintesi di collagene elastina e glicosaminolicani grazie a questo la pelle è meglio idratata e l'ossigenazione del tessuto è notevolmente migliorata in questo modo si eviterà la comparsa di qualsiasi smagliatura e si manterrà una pelle molto più sana in descrizione trovi il link su amazon di questo prodotto numero 2 questa è una crema anti smagliature di alta qualità che è appositamente realizzata per promuovere l'idratazione e l'elasticità della pelle la sua formula è appositamente progettata per fornire risultati sia per le donne in attesa che per le neomamme aiutando a ridurre ed eliminare le smagliature che sorgono come risultato della maternità la sua formula è basata sul 96 per cento di ingredienti naturali come cera d'api burro di karité olio di avocado cocco jojoba polifenoli del frutto della passione ed estratto di amamelide si raccomanda di applicarlo la mattina e la sera su pancia cosce fianchi e seno non lascia una sensazione di unto quindi puoi vestirti immediatamente quando lo applichi e non dovrebbe essere usato su cicatrici recenti perché può causare irritazioni o effetti indesiderati su di esse acquista questo prodotto con il link che trovi in descrizione numero 1 questa è una crema anti smagliature che ti permetterà di avere un'azione pro elasticità sulla tua pelle e che ti aiuterà a ripararla è indicata per attenuare le smagliature esistenti mentre previene la loro comparsa migliora la rigenerazione della pelle mentre la nutre e la idrata fino agli strati più profondi migliorandone notevolmente l'elasticità la sua formula contiene isoamino acidi allantoina proteine vegetali idrolizzate vitamina b5 ialuramina sodio pca complessi vitaminici e olio di crusca di riso è adatta per fianchi glutei cosce e seni non contiene caffeina parabeni coloranti o profumi e deve essere applicato una o due volte al giorno per ottenere gli effetti desiderati trovi il link con il prezzo di questo prodotto in basso nella descrizione del video